Criticare Pioli secondo me, in Italia siamo bravi a costruire e distruggere. Capisco il tifoso milanista in questo caso perché avrà le sue ragioni, si aspetta chissà che cosa, non lo so. Vista dal di fuori, io credo che Pioli abbia fatto un lavoro incredibile. Ma incomprensibile queste critiche, anche perché il Milan ha cambiato tanto, ma ha cambiato prendendo tanti giovani. Non ha preso i giocatori già fatti, pronti per andare a contrastare un Inter che a livello di Rosa è più forte e ha aggiunto i giocatori pronti e fatti. E allora, non lo so perché tutte queste critiche nei confronti di Pioli, o è successo qualcosa che noi non sappiamo, oppure Pioli ha fatto benissimo. Non so, forse gli rimprovano più l'anno scorso l'eliminazione in Champions League, non lo so, ai danni dell'Inter, sai, le rivalità poi queste pesano molto. E vince l'Inter, però... Però, diciamoci la verità, anche questo campionato ora è secondo e tra parenti...